Claudio Usuelli presidente della provincia di Lecco quest'oggi siamo in sua compagnia per parlare di quello che è successo ieri sulle strade della provincia in particolare sulla 36 ma non solo grande traffico grandi code si parla di ore e ore per diverse destinazioni delle montagne lecchesi da e verso Lecco soprattutto nella serata dove c'è stato appunto il picco dei visitatori che ieri erano veramente numerosi cosa è successo in strada quindi partiamo da qui innanzitutto buongiorno grazie per per l'occasione purtroppo si è verificato un quello che non doveva verificarsi ossia a causa a causa a seguito dei lavori che si stanno svolgendo sulla 36 abbiamo visto decine anzi migliaia di persone intrappolate nelle proprie auto in in coda con notevoli disagi si parlava addirittura di sei ore per fare il tratto bormio bormio lecco quando generalmente lo si percorre in in tre ore complice la bella giornata complice o per fortuna ecco per fortuna siamo in zona gialla quindi con i dati i numeri del coronavirus che sembrano positivi non usiamo il termine positivi perché meglio di no che sembrano confortanti la gente giustamente le persone giustamente si sono messe in in cammino si sono messe in marcia per potersi gustare dopo tanti mesi una domenica all'aria aperta avete parlato con anas dei dei disagi avete anche mandato una nota se ci può dire quale è stato il colloquio tra voi e appunto l'ente che gestisce le strani abbiamo abbiamo mandato una nota nella quale abbiamo sottolineato il fatto che è inevitabile e assolutamente legittimo che ci siano dei lavori anche perché servono per migliorare ancora di più la sicurezza stradale non è bello vedere cantieri aperti e ma senza le maestranze al lavoro per l'amor del cielo la domenica ci mancherebbe altro però si potrebbe intervenire in modo diverso che ne so con cantieri immobili oppure prevedendo i lavori in orari come si è sempre fatto notturni e liberando il cantiere o quantomeno mettendo il cantiere in sicurezza in modo tale che anche la fluidità del traffico non ne risenta ecco l'ipotesi prese in considerazione da anas queste che però sono probabilmente difficilmente attuabili noi comunque ci auguriamo che settimana prossima nel caso in cui la lombardia restasse zona gialla e ci fosse lo stesso flusso di turismo verso le nostre montagne turismo che comunque arriva per forza di cose da dalla nostra regione noi ci auguriamo che la situazione possa migliorare è possibile o se le cose rimangono così settimana prossima ci ritroveremo di fronte allo stesso scenario ma ce lo ce lo auguriamo tutto nella vita è possibile quindi sicuramente con un po di attenzione anche da parte di del gestore del proprietario della strada quindi del di anas sicuramente questi disagi potranno essere quantomeno limitati ecco con un po di qualche accorgimento la sistemazione del cantiere il lavoro quindi la sistemazione lasciandolo lì poi si lavora di notte oppure addirittura con i cantieri mobili cosa che però è abbastanza remota come come soluzione la provincia quindi ha parlato con anas ha preso una posizione e comunque continuerà a tenere d'occhio la situazione delle prossime settimane come intendete agire assolutamente come dicevo prima vigileremo affinché non 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 si ripetano questi questi disagi questi problemi anche perché abbiamo parlato di 36 ma tutto il traffico può essere riversato anche sulla sulla provinciale 72 quindi la riviera asca giusto per intenderci creando notevoli disagi anche su quella scuola arteria noi siamo stati chiari con anas ovviamente non polemici perché non siamo mai polemici siamo stati chiari abbiamo interloquito chiedendo di di trovare delle soluzioni a a questo problema soluzioni che contemperino il diritto dovere di sistemare l'arteria e renderla sicura con il la legittima aspettativa dei dei cittadini che dopo tanti mesi come dicevo prima si godono un pochettino di libertà e questa questa libertà questo relax non vada poi perso in con ore di cosa grazie claudio suelli presidente della provincia di deco noi saremo chiaramente a guardare e nel caso ci aggiorneremo ancora continuate a seguirci sulle ecofm per ulteriori aggiornamenti anche sul traffico del weekend ma in generale sulle strade lecchesi e la loro gestione